allora allora guarda questa qua perché ce l'ha con i venditori di corsi allora io non ce l'ho con i venditori di corsi e dipende che corsi e dipende come li vendono cioè se io vendo un corso per stappare le bottiglie ok e dico comprate il mio corso per stappare le bottiglie ma con tutto rispetto ci mancherebbe altro però se dici il mio corso per stappare le bottiglie è un corso che ti dà una visione ampia della possibilità di attuare un'attività che in qualche modo ti permette di aprire un nuovo spiraglio che quello della bottiglia alla tua vita e poi però però non serve a un granché ma però dico solo un secondo e poi vado avanti e già è una fregatura cioè magari non legale ma etica sì ok quindi no questo è un problemino dalla regia mi danno un biglietto dov'è datemi il biglietto biglietto regia legia che sono sempre io no regia mario mio figlio biglietto all right all right all right poi quindi questo primo secondo è un business è un business ragazzi è un grande business è un business è un business che è fantastico per chi oggi non ha è disoccupato ma non seguire i corsi venderli cioè ormai è pazzesco si va su youtube si guarda un video e poi si fa il corso e lo si vende con una tecnica ci sono proprio dei manuali ti spiegano come venderlo come si fa cosa bisogna dire è tutto uguale dire che sei diventato ricco con quel corso eccetera la cosa terribile non è è pieno di gente che vende e che loro si rivolgono proprio a un pubblico molto particolare che è quello di chi ha bisogno di giovani che hanno bisogno di trovare un futuro sappiamo che oggi giovani fanno una fatica bestiale a capire a capire cosa devono fare nella vita e questi gli vendono un futuro che non c'è o che c'è gratis su youtube con un video e questo è è terribile e come riconoscere che ci sono delle tecniche precise ci sono dei noti venditori di imbonitori che infatti notate che ogni due video mettono dei video che si chiamano motivazionali cioè dei video dove dicono ce la puoi fare come mai hai il corpo come mai devi devi riuscire il tuo capo non perché dentro di te questi tipo di dici che cazzo c'è ma scusate che c'entra sta roba no quando toccano i ragazzi mi nervosisco che c'entra sta roba qua cioè voglio dire ma perché hai fatto sto video perché quel video viene visto da quelle persone che sono le stesse che seguiranno quelli in quel venditore e poi compreranno loro corso se no come cavolazzo ti va a chi appare i corsi avete capito è per quello che impazzisco va bene poi vorrei qualche delucidazione sui telefoni ricondizionati sapere quali sono i pro al conto ma io ci vedo tanti pro perché come sapete c'è un problema di inquinamento enorme e quindi effettivamente i ricondizionati permettono di non dover rifare da capo eccetera e poi come posso chiedere di partecipare a un evento alla mia azienda chiedilo cioè è fantastico che vai sul mio sito e la c'è scritto la mia email e mi chiedi vuoi partecipare al mio evento in cui cerchiamo di vendere degli nft a no 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 perché non voglio mischiarmi con quella roba lì c'è il mio evento in cui cerchiamo di vendere corsi ai ragazzi no cioè no poi magari invece un evento che parla di altre robe potrebbe essere anche l'ultima previsione bitcoin un guaio allora tanto sbaglierò qualunque cosa dirò sbaglierò è un po come dire previsioni della roulette dai dai o ragazzi non ha niente a che fare ve l'ho già detto ve lo ripeto con la blog cene con la bontà di questo mondo è cioè quella un'altra roba e anche le cripto monete sono un'altra roba ma bitcoin proprio in questo momento è su per bolla ok come dove andrà o magari esce un numero buono fortunato e triplica o magari va verso zero devo proprio dirvelo e sennò che sto qua a fare se non ve lo dico neanche secondo me down e tanto avrò sbagliato lo so già però però ve l'ho detto e sennò a non dir mai niente sono capaci tutti